Perché Salvini in Europa non ha votato per la ridistribuzione dei profughi, lo dica gli italiani. Ma perché fate ridere, signora mia, 15.000 profughi, profughi, qua ne arrivano 170.000 all'anno. E allora ci riteniamo tutti noi, come Dublino, andiamo avanti, dite una cosa, ne fate un'altra, ci piace. E voi parlate di 15.000 ridistribuzioni in due anni. Ma fate ridere, 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 chiamate dalla vostra parte il nuovo avvenimento, queste le due. E voi.